Si è svolto ieri presso la sede della ASLOC, associazione salentina per la lotta contro il cancro, in via Regina Elena a Lecce, l'incontro conclusivo del percorso Open Day della Prevenzione, avviato l'8 marzo in occasione della Festa della Donna, proposto dal coordinamento Donne CISL di Lecce, in collaborazione con ANOLF, associazione nazionale oltre le frontiere, CISL e ANTEAS, associazione nazionale di Lecce. tutte le attività attive per la solidarietà. La CISL di Lecce ha voluto andare oltre l'abituale retorica dell'8 marzo, mettendo in campo un'iniziativa concreta, uno screening gratuito contro il tumore al seno, riservato a 10 donne immigrate al di sotto dei 45 anni di diversa nazionalità, senegalese, rumena e rom montenegrina. L'iniziativa è stata condotta nei mesi di maggio e giugno con il supporto dell'Associazione Salentina per la lotta contro il cancro, che ha ospitato presso il proprio centro le donne, offrendo loro test ed esami gratuiti. Il percorso di prevenzione ha avuto l'obiettivo di promuovere il benessere psicofisico delle donne immigrate, creando maggiore consapevolezza della necessità della prevenzione oncologica e della cura del proprio corpo, e favorendo anche l'integrazione col tessuto sociale locale. In particolare lo scopo è stato quello di avvicinare alle pratiche di screening e prevenzione dei tumori femminili le donne immigrate, che per barriere culturali, non conoscenza dei servizi di screening, timore della perdita del posto di lavoro nel caso di malattia, rischiano di non essere intercettate in tempo utile per l'identificazione e la cura della malattia. Per la riuscita dell'iniziativa determinante è stato il lavoro di squadra svolto dalla rete CISL, così come fondamentale il supporto dei volontari ANOLF.